Avvocato di Mundo, presidente dell'associazione In Jazz e direttore artistico del Bitonto Jazz Festival, ormai giunto alla diciottesima edizione. E quest'anno il festival si riapre a tonalità, a sfumature di musica differente, non solo jazz quest'anno. Sì, quest'anno è un'edizione colorata, coloratissima. È la prima volta che ho ampliato l'offerta alle variegate vie del jazz. L'ho intitolata così questa edizione, le vie del jazz, proprio perché volevo rappresentare altre facce di questa grande musica. Quali sono per quest'anno le chicche delle quattro serate del Bitonto Jazz? Secondo me sono tutte chicche, perché sono tutti concerti molto diversi fra loro, perché naturalmente sono contaminazioni, è musica contaminata dal jazz, musica attaccata da questo virus che è il jazz. Se vogliamo parlare di notorietà storica, il gruppo più importante della rassegna dovrebbe essere quello del 4 agosto, di sabato 4, gli Yellow Jackets, i veterani della Fusion praticamente. Però ci sono questi astri nascenti nei generi intermedi che non sono meno importanti, voglio dire, come artisti. Quello di stasera, per esempio, Pedrito Martinez è un conghiero molto noto in America negli ultimi due anni. Un cubano che ha sfondato praticamente negli Stati Uniti e viene chiamato anche come strumentista da molti artisti affermati, affermatissimi. Stasera sentirete naturalmente i ritmi del Latin Jazz, i ritmi cubani. Un giudizio da appassionato di jazz, da più o meno persona che conosce il jazz, è un'altra edizione, una edizione diversa rispetto alle precedenti, perché è un'edizione che ha voluto l'associazione in jazz e il direttore artistico, in particolare Emanuele Di Mundo, si è voluto dare un imprinting più ampio su tutte quelle che sono le varie declinazioni del dialetto e degli idiomi del jazz. E di conseguenza da ieri sera, che si è iniziato con Daniela Spalletta prima e con Carmen Sosa dopo, quindi due voci femminili completamente diverse, entrambe però portate verso un jazz moderno, la seconda sicuramente più legata a delle tradizioni, che sono quelle delle tradizioni del jazz, cioè dell'Africa, per poi passare a quella di stasera dove ci sarà la canzone declinata secondo il linguaggio jazzistico. Poi ci sarà invece il Latin Jazz cubano, quindi con la matrice caraibica, che è sostanzialmente differente rispetto a quello che è il Latin Jazz brasiliano o più portoghese, per poi passare a quella che sarà la serata di domani con una prima nazionale assoluta, con un'orchestra, di nuovo sul palco l'orchestra del conservatorio Niccolò Piccini di Bari, per questa produzione con Vox Media, che è una produzione molto particolare, perché vede il teatro con il jazz e quindi ciò sta a significare un altro aspetto, cioè l'aspetto che il jazz abbia contaminato il teatro ma anche viceversa. E questo è storicamente anche provato anche da tutti i teatri che c'erano a New Orleans e dove spesso poi si andava a interagire, ma anche i minstrel show o i vaudeville che hanno dato, comunque hanno creato un po' fatto da cucina del jazz, sono sicuramente delle declinazioni particolari, per poi arrivare a un sassofonista, quindi il brand europeo Stan Sulzman, che è inglese, che ha una lunga attività nell'ambito delle grandi orchestre, ma è stato anche sassofonista di Paul McCartney, quindi coniuga anche un linguaggio che ha assorbito quello del pop rock, per poi arrivare alla Fusion, ai padri no, però sicuramente coloro i quali hanno consentito alla Fusion di arrivare a dei livelli di conoscenza molto più ampi che sono gli Yellow Jackets.